Dobbiamo davvero dire addio al Sistema Sanitario Nazionale? Sì, perché in questi ultimi 10-15 anni abbiamo assistito a un cambiamento molto importante della situazione del Sistema Sanitario Nazionale, tempi di attesa per moltissime prestazioni che si sono allungati a dismisura, soprattutto per quanto riguarda la diagnostica e una parte di interventi, e poi adesso ad una nuova piaga a cui stiamo andando incontro, che è il progressivo abbandono da parte delle figure sanitarie, soprattutto da medici e infermieri, che stanno andando verso un altro tipo di situazione che è quella del privato e privato convenzionato, si stanno spostando verso una realtà di tipo diverso. Che cosa succederà nei prossimi 10-20 anni di Sistema Sanitario Nazionale? Ora, io non voglio dare una risposta effettiva a questa cosa perché non lo so neanche io, però certo non nascondo che sono molto, ma molto preoccupato sul futuro del nostro Sistema Sanitario, perché alla difficoltà dell'aumento delle prestazioni, dei costi, delle prestazioni, dei tempi per poterle erogare, si è aggiunta anche questa emorragia che adesso interessa anche il mio mondo, il mondo dell'ortopedia. Infatti sono apparsi già degli articoli come questo che dice, Emergenza Sistema Sanitario Nazionale, sondaggio dei giovani ortopedici, rivela dati shock. Non ve la faccio troppo lunga, ma se uno scende, è stato chiesto ai giovani ortopedici che cosa, che lavorano nel Sistema Sanitario Nazionale, quindi assunti dal sistema, che cosa pensano di fare nei prossimi anni. E i dati non sono molto rincolanti, anzi secondo me sono fin troppo ottimistici. Il 48% si dichiara poco o nulla soddisfatto, il 4,1% riputa poco, niente prestigioso alla professione, né gratificante 45%, anzi tantissimo frustante 42%. E se si va a vedere che cosa succederà, la maggior parte di questi giovani ortopedici dichiara che vorrà andarsene dal Sistema Sanitario Nazionale, qualora ci fossero delle offerte interessanti. Bene, questo è solo un articolo, ma ce ne sono moltissimi altri presenti online che parlano di questo problema, quindi al tempo di attese si è sommata la piaga dell'emorragia progressiva del personale che se ne sta andando verso il sistema privato convenzionato, che ovviamente è più competitivo, è più attrattivo perché permette di erogare anche in modo diverso, lo stipendio lo può, si può comporre lo stipendio in modo un po' diverso e quindi tendenzialmente si può guadagnare di più che rispetto al Sistema Sanitario Nazionale ed è ovvio che tendenzialmente se c'è la possibilità, la maggior parte delle persone migra in quella direzione, l'afflusso contrario invece è molto 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 povero. Quindi non so come si potrà andare a competere con questo sistema per poter pareggiare l'afflusso di persone che vanno e che vengono, di personale che va e che viene, ma certo a piaga si somma a piaga e questo non fa ben sperare per il futuro del nostro caro vecchio sistema sanitario nazionale. Ora, spero di averti preoccupato abbastanza, anche se non era mia intenzione, ma era solo per lanciare l'ennesima allarme che è necessario fare qualcosa effettivamente per invertire questa rotta perché chi lavora come me in un ospedale pubblico ci mette tutto, ci mette l'impegno e oltre per poter far fronte alle esigenze che ogni singolo reparto, ogni singola situazione è A, però poi dopo si trova ad avere a fare i conti anche con questa situazione che ovviamente di riduzione progressiva del personale, di dover far fronte a quello che si faceva in tre ore da soli, insomma si fa molta fatica. Sono curioso di sapere cosa ne pensate anche voi di questo tema, quindi vi chiedo di farmi sapere giù sotto nei commenti qual è la vostra idea sul futuro del sistema sanitario nazionale, se rimarrà così, se entreranno magari come possibile le assicurazioni private, quindi tutti saremo dotati di un'assicurazione sanitaria, un po' come avviene negli Stati Uniti d'America, oppure ci saranno altre soluzioni. Fatemi sapere, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!